Il presidente della provincia Antonio Saitta, accompagnato degli assessori alle grandi infrastrutture Franco Campia e alla pianificazione territoriale Silvana San Lorenzo e dal consigliere Vincenzo Galati, ha visitato i cantieri del secondo tronco dell'autostrada Torino-Pinerolo. L'incontro si è svolto con i vertici dell'attiva e delle imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera. Il tratto, che si sviluppa fra Nona e Pinerolo, è lungo circa 11 chilometri e porta l'intera diramazione ad una lunghezza di 23,5 chilometri. L'importo dei lavori è di 46 milioni di euro. Presidente Saitta, la visita ai cantieri della Torino-Pinerolo, una delle opere più attese e fondamentali anche in vista delle Olimpiadi. Sì, finalmente quest'opera è alla conclusione. Sono passati 30 anni, addirittura 35 anni. Io ricordo che si iniziò a parlare negli anni 70, addirittura avranno fatti gli espropri, poi ci fu una grande contestazione in quegli anni contro le infrastrutture perché ritenute faraoniche. Finalmente si realizza, e certamente è stata l'occasione olimpica, un'occasione importante. Il Pino-Rese sarà collegato con Torino facilmente e quindi è un modo anche per rendere competitivo questo territorio, il Pino-Rese che era obiettivamente in difficoltà sui collegamenti della città di Torino. I tempi sono stati rispettati, sicuramente credo che i cittadini non potranno che giudicare positivamente questa opera. Noi l'abbiamo seguita con attenzione in quanto azionista relativa, ma soprattutto abbiamo anche seguito altri aspetti collegati ai comuni qui attorno, in modo particolare Benasco, il quale ha sollevato giustamente dei problemi perché teme una distorsione del traffico che gravita su Benasco. E' stata realizzata a questo proposito un'opera di mitigazione, una sistemazione della provinciale. Mi pare che ci sono ormai tutti i requisiti, gli elementi perché l'opera possa funzionare. La previsione delle inaugurazioni è prevista per la fine dell'anno, credo che sicuramente sarà rispettata perché questa mattina ci siamo resi conto che ormai i lavori sono praticamente quasi ultimati. Quindi al Capodanno 2006 la prima auto potrà transitare da Torino verso le montagne olimpiche? Sicuramente sarebbe un bel regalo, ma credo che sicuramente quella data sia rispettata.